E' fondamentale restituire al lavoro il valore che merita. Il lavoro, come dicevo poc'anzi, agli amici presenti, immediatamente noi lo immaginiamo ed è giusto anche pensarlo per l'aspetto economico che si spera il lavoro possa produrre per il beneficio della persona e della famiglia soprattutto. E lo sappiamo a partire da questo momento di difficoltà molto seria in cui tante famiglie si sono ritrovate. Però il valore fondamentale del lavoro che Dio affida all'uomo come collaborazione per la sua creazione è ciò per cui l'uomo perfeziona se stesso. L'uomo non deve diventare schiavo del lavoro, però è attraverso il lavoro che l'uomo esprime le sue migliori qualità, l'intelligenza, la saggezza, l'impegno, l'equilibrio, l'onestà, la reciprocità, la collaborazione e tantissimi altri aspetti che migliorano la persona in rapporto anche agli altri e soddisfa la persona nel senso che la completa nelle sue attitudini sentendosi valorizzato e sentendo di valorizzare il mondo in cui è stato posto da Dio per renderlo migliore proprio attraverso il lavoro. Buongiorno a tutti, ringraziamo il Vescovo Sua Eccellenza per la preziosa visita che ci ha fatto questa mattina. A noi non fa che onore avere Sua Eccellenza qui presso il centro commerciale. Dopo questo periodo buio di lockdown abbiamo deciso di ripartire in massima sicurezza. Abbiamo installato all'interno del centro commerciale dei sistemi che aprono in maniera automatica le porte a tutti i clienti del centro commerciale e quindi garantiscono la sicurezza dei clienti stessi all'interno del nostro centro. Stiamo sviluppando una app che permetterà a tutti quanti i clienti di prenotare delle visite presso gli esercizi commerciali del centro e soprattutto potranno partecipare a una raccolta punti e quindi a dei premi fedeltà che daranno la possibilità di vincere premi in denaro e anche numerosi sconti presso tutte le attività del centro commerciale.